Il girone di calcio a 6 della terza edizione della Zona Pottina Christmas lo vincono gli amici di Zio che per la prima volta alzano un trofeo del circuito Zona Pottina dopo aver battuto in finale i No Arti per 3 a 2 Una partita combattuta ed emozionante con grandi occasioni fino all'ultimo secondo ma con i campioni sempre in vantaggio sin dal primo tempo La prima occasione è proprio per Tiberi, tiro dalla distanza respinto da Funari sul quale Loconte interviene, va in dribbling, serve Ambrosio ma la conclusione di destro è troppo alta La reazione dei No Arti è con una bella punizione di sinistro di Ambrosio ma Cifra di piede manda in angolo Ancora Tiberi da una parte, serve sulla destra Loconte, Loconte punta l'uomo, ancora un tunnel, passaggio dietro per Tiberi che apporta praticamente sguarnita Batte Funari con un bel tiro sotto la traversa per il vantaggio degli amici di Zio La reazione dei No Arti non si fa aspettare, bel gioco di gambe e alla fine il tiro di Ambrosio va a sbattere su Segala La risposta degli amici di Zio è sempre a due tocchi Il tiro di Rocco arriva a Rosa Pane piazzato sul secondo palo ed ecco il 2-0 per la squadra di Mister, Zio Claudio Meschino Il doppio vantaggio però non scompone la squadra di No Arti che reagisce ancora, parla di Ambroggi, lo scambio con Zaccarelli, ancora Ambroggi Prova di sinistro, di nuovo il muro fluo davanti alla porta di Americo Cifra Di nuovo ci prova Zaccarelli però stavolta il suo tiro da lontano finisce fuori, ancora il numero 8 di No Arti Però Cifra respinge e di nuovo un'occasione tra Zaccarelli e Cifra ma sempre il portiere dei amici di Zio riesce a respingere Occasione per Libanori che incredibilmente manda di poco fuori Ultima occasione ancora per Zaccarelli, stavolta la sua punizione va a sbattere su Ambroggi ed arriva il gol di No Arti che riapre la partita Il secondo tempo parte subito con Mario Tiberi, ancora un tiro di destro, la palla va fuori Altra conclusione, risposti dei No Arti ma Cifra è attentissimo, adesso è Mario Tiberi sempre da fuori aria Il suo tiro respinto da Funari, ha il rompe ancora Tiberi, Funari ancora non si era alzato e la palla entra in rete per il 3-1 degli amici di Zio La squadra fluo va di nuovo sul più 2, ancora il capocannoniere del torneo, ci prova di destro, Funari respinge di piede Occasione stavolta per Barca che va da solo, serve sulla destra il suo compagno, il tiro però va a sbattere ancora su Cifra, molto bravo in uscita Ancora un'occasione stavolta per Ambroggi, il miglior giocatore del torneo riesce a stoppare palla, andare sul sinistro e battere con un bel tiro ad incrociare Amerigo Cifra, ancora il perno di Ambroggi, stavolta il suo tiro però è ribattuto da Rocco che salva Cifra Dall'altra parte però è sempre pericoloso Tiberi, stavolta a un suo destro, respinto da Funari arriva Loconte che di testa colpisce una clamorosa traversa Si va di nuovo nella metà campo di amici di Zio, Ambroggi guadagna un calcio punizione, arriva Zaccarelli ma di nuovo Cifra para il conclusione numero 8 L'ultima occasione del match è per Ambroggi, il suo dribbling è troppo lungo e va direttamente fuori È l'ultima palla del match, la palla che incorona gli amici di Zio, campioni della zona Pontina Christmas